La geografia conta, sempre. I panorami che ci circondano sono il motivo per cui sogniamo certe cose e non altre, che siano i boschi, i porfili delle montagne, le pianure infinite o il mare. Quello che abbiamo guardato fin dall'inizio rimane dentro di noi e dentro le nostre imprese. Gli antichi dicevano che ogni luogo del mondo ha uno spirito che lo abita e lo definisce. Chiamavano questa specie di divinità con il nome di genius loci, genio del luogo, per dire che certe cose nascono in un ambiente preciso e non può essere altrimenti. Questo è Genius Loci, il podcast voluto da Confindustria Veneto-Est per raccontare le storie di imprenditrici e imprenditori, delle loro imprese e di come siano legate a un territorio poco raccontato, unico e geniale. Il Veneto-Est. C'è un luogo a Triviso che racconta molte storie. È il quartiere dell'ex fonderia. L'archeologia industriale è stata riqualificata in uffici e residenziale, ma trattiene ancora nell'aria la fatica della produzione di un tempo. L'eco di una laboriosità senza fine. Accanto c'è un'altra storia, più recente. Il sogno americano mescolato al calcetto. Ci sono ancora, da qualche parte, i ricordi delle notti di lavoro di una start-up nata negli ultimi anni del Novecento. La prima web agency italiana dal nome eTree. Moca ha la sua sede qui, tra due storie parallele, quella dell'ex fonderia e l'altra, più vicina, leggendaria del sogno italiano digitale. Moca è nata nel 2004, da quattro soci che l'hanno pensata per la prima volta in spiaggia. Si occupa di performance marketing. Web agency da 20 anni, oggi Moca fa parte della digital company WebSolute. Ogni giorno lavora con il digitale, in questi luoghi così simbolici. Come ci racconta Andrea Sportillo, CEO di Moca. Questo spazio fu la sede di eTree nel 98, 98, 2000, insomma, due o tre anni. ETree è stata una delle prime web agency in Italia, che ha avuto successo. Sono partiti poche persone e nel giro di due o tre anni sono esplosi. Sono passati da 8 a praticamente 80 dipendenti in due anni. Ed è stata una delle prime web agency famose in Italia, o quantomeno comunque del Trivento, delle nostre zone. Avevano preso i primi clienti importanti, i primi progetti importanti e, insomma, lavoravano qua. Chiaramente loro era proprio modello start-up americana, americana, quindi la gente dormiva qui in ufficio. Mi ricordo che ho visto delle foto, avevano proprio dei letti. Avevano dei letti, dei letti a castello, avevano visto la bowling, il ping pong. Proprio la gente viveva qua praticamente 24 ore al giorno. Dormiva qua e, ripeto, in due anni, hanno avuto un successo strepitoso. Poi hanno venduto. A capo c'è la donna donna che poi ha dato l'Aitchfarm a tutto quel polo lì. Insomma, c'è anche questo aspetto qui. Siamo nello stesso posto dove più di vent'anni fa esplosa una delle prime agenzie che del digitale ha fatto il suo mestiere, insomma, e ha portato il digitale a diffondersi anche in queste zone. Far parte di un gruppo come WebSolute permette a Moka di avere in casa tutte le competenze di filiera. La digital company WebSolute lavora con i brand, disegnando, creando ecosistemi digitali, gestendo omni-channel commerce. Moka è specializzata in digital advertising, CEO, conversion optimization, web analytics ed email marketing automation. L'agenzia trevigiana aiuta, insomma, le aziende a ripensare processi decisionali e organizzativi, partendo dalle opportunità del digitale. Non mancano le possibilità, come le sfide, in questo segmento ancora poco compreso dal tessuto italiano. Tanti processi e tanti modi di fare le cose per come le abbiamo fatte in questi ultimi decenni probabilmente cessaranno di esistere o comunque verranno cambiati radicalmente da software, no? Che sono potentissimi. Stiamo, abbiamo forse in questi ultimi due anni veramente sfiorato alla punta dell'iceberg di quelle che sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si possono fare delle cose mostruose onestamente. Per cui ecco, un occhio a quel mondo lì perché alle aziende potrà dare davvero una mano enorme. Il digitale, per quanto crescerà e per quanto mi aspetto che, come è successo in mercati molto più evoluti, continuerà a rubare le quote di mercato a business più tradizionali, ma non sostituirà mai esperienze fisiche e le aziende che avranno successo forse saranno proprio quelle che riusciranno a portare un'azienda digitale, ma per completare un'esperienza che è di fatto sempre e sarà sempre anche fisica. Il negozio non morirà mai, soprattutto per alcune categorie, tipologie di beni e servizi, dove l'esperienza fisica, la mediazione con un essere umano, la relazione con un essere umano è fondamentale. Chi avrà successo sarà chi prenderà il digitale, ma non tanto per chiudere i negozi per forza e far silicom, ma per offrire servizi in più, per completare, per arricchire un'esperienza che però alla base è fisica e prevede un rapporto fisico con un commesso, con un venditore, con un customer care, con un numero verde, non lo so. Ecco, quindi i buoni esempi in Italia di esperienze, come si suol dire, omnicanali, quindi sia fisiche che digitali, non ce ne sono tantissime, onestamente. Neanche da aziende molto grandi che avrebbero magari le risorse per poter lavorare bene, in realtà di esperienze veramente virtuose, come si sono viste all'estero in Italia, non ce ne sono ancora tantissime. Quindi credo che sia quella la vera sfida. Prendere il digitale per completare le esperienze che offriamo i nostri clienti, unendo il fisico e il digitale. Non ci sono ancora riusciti in tanti, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, secondo me. Da semplice stagista part-time fino a diventare CEO di MOCA. La carriera di Andrea Sportillo è la prova della filosofia aziendale che anima l'agenzia. C'è etica, meritocrazia, valorizzazione dei talenti. Ma anche orari flessibili, cura delle relazioni, rispetto del tempo delle persone. In MOCA ci sono poche regole e si lavora sul senso di responsabilità di ciascuno. Lo smart working è presente da molto tempo, ben prima della pandemia. Il bilanciamento della vita e del lavoro è infatti essenziale per l'agenzia trevigiana. Oltre a un budget che ciascuno può destinare alla formazione, c'è anche uno sportello psicologico a disposizione per i 64 dipendenti. Per le sue politiche HR, nel 2023, MOCA ha ottenuto il riconoscimento di Great Place to Work. In ufficio, il clima che si respira è di complicità, gentilezza, attenzione. Andrea Sportillo la chiama la magia di MOCA. Cerchiamo di essere davvero molto attenti a quello che è il bilanciamento tra lavoro e vita, per cui diamo la possibilità alle persone di iniziare a lavorare due ore dopo o due ore prima e di finire due ore dopo o due ore prima rispetto all'orario standard. Quindi una persona può iniziare alle 11 e finire alle 8 di sera se è uno a cui piace dormire fino a tardi o alla mattina va a farsi le spese o porta fuori il cane, eccetera, può farlo. Ci sono i mattinieri che invece possono iniziare alle 7 e finire alle 4, così dalle 4 possono andare dove vogliono. Lo smart working l'avevamo sdoganato anche pre-Covid, quindi è una cosa, una politica che in realtà, come dire, Covid chiaramente ha esploso questa cosa, ma noi lo facevamo già da prima, quindi ad oggi facciamo smart working 5 giorni su 5, per cui insomma ognuno può decidere di lavorare da casa, potenzialmente sempre chiediamo una minima presenza a trimestre in ufficio, ma di fatto si può lavorare a casa da sempre. Cerchiamo insomma di dare massima flessibilità e di lavorare sul senso di responsabilità. È quella che cerchiamo di costruire un'azienda molto snella anche a livello di regole, di procedure, di flussi. Cerchiamo proprio di togliere il più possibile e fare in modo che sia il senso di responsabilità, di attaccamento alla maglia delle persone che fa la magia. Anche banalmente nelle trasferte non ci sono chissà che controlli sulle spese, certo che è un controllo cezzo, cioè il gruppo ci fa la ramazzina come giusto che sia, però in realtà si dà grande autonomia alle persone nel modo in cui decidono di spendere i soldi dell'azienda per spostarsi, per andare dai clienti, eccetera. Nel senso che ci aspettiamo proprio che non serve alla regola, basti il senso di responsabilità alle persone per poter con coscienza gestirsi il proprio tempo, gestirsi i soldi dell'azienda che devono spendere per andare dai clienti. Un'altra cosa, diamo a ogni persona un budget formazione che possono spendersi durante l'anno per studiare, andare a eventi, andare a convegni, comprarsi libri, eccetera. E anche su questo, benché un indirizzo ci sia, una sorta di controllo ci sia, di modo che insomma cerchiamo di suggerire alle persone delle spese che siano coerenti con quello che veramente gli serve, il minimo di affiancamento c'è, però anche su questo c'è grande autonomia. Non c'è una persona che sta lì a controllare al centesimo dove sono stati spesi i soldi, si lascia alle persone massima flessibilità e autonomia proprio facendo leva sul senso di responsabilità. E questo viene apprezzato, viene apprezzato ed è uno dei motivi che crea insomma quella magia e che spinge le persone a stare qua, lo speriamo, per tanti anni e non solo per 24 mesi. La tradizione, la capacità di inclusione tutta trevigiana e la voglia di futuro. Per Andrea Sportillo c'è un luogo che incarna meglio di altri l'anima di questi luoghi. Una vecchia osteria che ha saputo trasformarsi abbracciando la sua identità, senza mai tradirsi. I nanetti, per chi non lo conoscesse, sono un buco, un buco di pochi metri quadri nel pieno centro storico di Treviso. È di fatto, insomma, una vecchia osteria che adesso non ha tavoli all'interno, però di fatto il concetto è un po' quello, quindi un luogo molto tradizionale. C'è molto dietro i nanetti, nel senso che per quanto sia un qualcosa di molto semplice, ripeto, è un bancone dove tu vai, ti ordini il panino e te lo mangi fuori. In realtà è un'unione di una gastronomia molto tradizionale come il crostino, col bacalà, il panino con la porchetta, ma in realtà che rinterpreta lo street food, un chiaro molto moderna, quindi il tradizionale che è il panino con la porchetta, però abbinato allo street food, che è un concetto un po' più moderno, in una salsa così, un po' molto giovane, vanno un sacco di studenti, vanno un sacco di ragazzi giovani, ma non solo. Ti puoi bere il bicchiere di Cabernet e di vino abbinato, ti fanno il tagliere. Ripeto, per me è proprio un'espressione di tradizione con modelli però di modernità, allo street food e anche di innovazione, nel senso che questa cosa dove non c'è il tavolo, c'è solo un bancone, ti prendi il coso e te lo mangi fuori, c'è un pensiero dietro, no? E questo insomma rappresento un po' l'anima di questi territori, quindi l'attaccamento alla tradizione, ma anche una grande spinta alla modernità, al cambiamento, a cercare la cosa un po' diversa. Ed è un posto che è un successo incredibile, per quanto sia, ripeto, un buco di pochi metri quadri che faccia panini con la porchetta e con la mortadella, no? Avete ascoltato Genius Loci, il podcast che racconta le storie e i territori delle donne e degli uomini che hanno fondato le loro imprese nel Veneto. Genius Loci è un progetto di Confindustria Veneto Est, sostenuto da Umana, l'Agenzia per il Lavoro di Venezia, da sempre impegnata ad accompagnare la crescita delle persone e delle imprese. Il progetto di storytelling e la produzione sono di storie avvolgibili, il testo e le parole sono di Miriam Scandola, le voci sono di Alice Segala e di Stefano Mangone, l'immagine e la comunicazione sono di pensiero visibile. Puoi ascoltare gli episodi di Genius Loci sul sito di Confindustria Veneto Est e su tutte le piattaforme di ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.